Gli incontri letterari con gli scrittori, organizzati dalla Fondazione Tiboni e dai Premi Flaiano, continuano in modalità virtuale sulla pagina Facebook del Media Museum. Venerdì 22 gennaio, alle ore 18 e 30, Chiara Francini presenterà il Cielo Stellato Falefusa, edito da Rizzoli, e giovedì 28 gennaio, sempre alle 18 e 30, sarà la volta di Licia Colò con Il pianeta Istruzioni per l'Uso, edito da Solferino Libri. Nei giorni scorsi, intanto, è toccato alla scrittrice Silvia Vallone dialogare con la giornalista Marina Moretti parlando dell'ultimo libro, Un'amicizia, pubblicato da Rizzoli. Io comincio questo romanzo negli primi anni 2000, quando i social non c'erano. Era un mondo, se vogliamo, un mondo del segreto, un mondo in cui non c'erano testimoni, a parte le persone che volevi con te dentro la vita. Io racconto come una grande rivoluzione, la rivoluzione digitale. Quello comunque era un mondo del segreto. Io lo racconto proprio a partire dai diari, dal fatto che l'inadeguatezza che Elisa sente la butta tutta dentro una pagina privata, chiusa col lucchetto che nessuno leggerà mai, no? In cui la scrittura ha un modo per fare i conti con se stessi. Poi piano piano irrompe la tecnologia e questo modifica proprio la percezione di noi stessi. Per cui Beatrice, che riesce a capire, a differenza di Elisa, che questa non è roba da nerd ma cambierà il mondo, lei cavalca proprio con invece un senso di adeguatezza assoluta della sua immagine queste nuove tecnologie. Però cosa succede? Che i social in questo senso hanno aumentato a dismisura il senso di inadeguatezza di tutti, adolescenti e adulti, perché chiaramente se l'uso che è andato per la maggiore era quello dell'esibizione della felicità, chiaramente tutti noi al di qua dello schermo sappiamo che tra una foto e l'altra ci sono tutte le cose che non vanno, tutte le fragilità, tutti i problemi, l'utile, malattie. La vita è fatta anche di questo in maniera strutturale e quindi è chiaro che di fronte a quella felicità ognuno di noi si è sentito inadeguato. Io anche per questo che ho scritto questo libro, proprio per aggrapparmi alla letteratura e far capire che quelle contraddizioni, quell'inadeguatezza, quella fragilità sono parte di noi. Dobbiamo, posso dirle, dobbiamo proteggere, dobbiamo prendercene cura perché abbiamo bisogno di questa profondità. Grazie.